Buongiorno amici ascoltatori dell'opinione equestre, terza settimana di gare qui al Toscana Tour 2016 siamo in compagnia di un vero talento, siamo in compagnia di Edoardo Garzia ha appena vinto la categoria Children qui al Toscana Tour e adesso lo intervistiremo Ciao Edoardo Ciao Allora, intanto complimenti e intanto raccontaci un po' il percorso che hai appena vinto che categoria era e che difficoltà hai trovato? Era una 110 ma era un po' difficile per girare perché lui è molto duro di bocca Senti, quali sono le tue prossime gare che affronterai qui al Toscana Tour? Sei solo questa settimana o anche la prossima? Anche la prossima settimana Senti, lo sai che tra un mese ci sono i campionati Children? Pensi di parteciparli qua? Credo di sì Ok, senti ci vuoi dire un po' chi sono anche i tuoi sponsor che ti aiutano a fare queste vittorie a parte mamma? I miei sponsor sono Animo, Wow e Facciani, Alberto Facciani Bene, quindi ringraziamo Edoardo, gli facciamo un grosso in bocca al lupo per il suo futuro e per la sua carriera Grazie Grazie